La parte ha avuto l'occasione e tre possibilità di portarsi sul 3-1 sprecate Servizio per il giapponese Sta sul blocco e poi lo sposta Che gioco, stranissimo Ha fatto una palla crana, un attacco corto e poi una botta sulla palla più difficile Lei è andata dentro Ha fulminato Xin Servizio Xuxin Sbaglia il blocco, Matsudaira Sì, era un po' lontano per fare un blocco Il blocco va fatto vicino al tavolo appena che rimbalza 3-2 3 pari Questa è brutta però, guarda 4-3 5-3 5-3 Specca, 5-4 Ah, gran palla qua 6-4 Qui lui si è spostato Matsudaira, ecco, si è spostato nell'angolo del rovescio E poi invece Xuxin l'ha punito Chiudendo dall'altra parte 6-4 6-4 7-4 7-4 7-5 7-5 8-5 8-5 9-5 Neanche di tanto è uscita se l'ho visto bene Mh Abbastanza vicino a lambire il profilo del tavolo Let's 5-8 L'errore di Matsudaira, 9-5 L'ha recuperato bene tutto sommato Già qua l'ha messa di là in qualche modo 10-5 10-5 11-5 11-5 3-2 Torna in vantaggio Xuxin Dopo Avere sudato davvero Tanto Anche in questo set Anche se è finito a 5 Però, insomma J-League No stopping it